Una telefonata salva la vita e consente di parlare. Prego, Lelaruzio. Vedo che la televisione è stata tra i suoi testi fondamentali di formazione politica e culturale e i caroselli ne erano una parte essenziale, ma non c'è niente di male, forse erano i più interessanti tra i tanti programmi.